Bella vecchietà pari! Siamo i Granas e bentornati sul nostro canale E oggi andiamo a fare il torneo con i giocatori francesi Con tutti i miei françois de la françois de la françois de la françois Capito? In attacco abbiamo il bomber, Benzema, abbiamo la gazzette, ce l'abbiamo tutti Oggi si va a giocare il torneo, dobbiamo vincere il torneo perché c'è in pane un pacchetto Oreo Premium Ma quindi ragazzi, vanno alle cianci, andiamo a... Oddio! Oddio! Ah, ecco due E quindi, mentre io cerco di ripetere mi dà una botta Porca puttana Questa è la nostra squadra Con Yoris, Mangala, Kocielny, Ebra, Debussy, Bambiani, Cabaye, Cabella, Nasrila, Gazzette, Benzema! Bam! Che lui sarà il bomber Benzema è una bestia Mamma mia! Ma pronti a rompe i culi a tutti quanti La france! Viva la france! Ok! Ah, c'è Menez, cazzo, diciamo, ci dobbiamo pensare a Menez Perché non c'hai pensato a Menez? Ma te l'ho detto io, Menez, infatti, tipo, è una bestia, no, no Sì, 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 ha detto tutto Ah, ho aiuto anche Griezmann a tutti io, però, vabbè Vabbè, siamo pronti Prima uscita Ah, BookBab, porca troia Prima uscita della Schotokalfeld Della Schotokalfeld Della Schotokalfeld Bambina, papapapa, 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 papapa, 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 papapa... Non lo so, ammi, fai mai Porca la pittana, porca pittana Benzema! Ma che cazzo t'ha fatto? Non lo so, ha fatto un tiro di merda Non so perché mi sono sanzato così,ianab non è fuori gioco dai no ma che cos'è questa cosa ma che cos'è ma che cos'è ma che cos'è ma che puttana porca ma porco 2 se ne che è più palla di testa la palla per benzi ma vai benzi vai benzi lo stop benzi non lo aveva fatto benzi no 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 scherzerai scherzerai ma che cazzo le golle è ma che vuol dire ma che gli male di tornano indietro e non scatta più mamma ma che palla è questa premertù è la freccia che non mi aiuta a vincere perdo tutto quanto la miseria ti sei rovinato alla fine 3 a 0 vabbè no no non ci voglio crede il fallo porca puttana tranquillo no 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 perché stai passando a 100 ormai 4 a 0 che bello che bello che bello mamma mia 4 a 1 al novantesimo si può fare stiamo perdendo lo so alzo dei sorti però si può fare ancora 4 a 1 al novantesimo la cassetta è bomber boom e finisce pure l'arbitro si era messo in mezzo bella bella l'ottima uscita del 5 per my team e niente subito alla prossima dai 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 bene la cazza tiff questo ce fa il l'azzo vabbè dai calcio d'angolo subito è una buona cosa una buona cosa vuol dire che la squadra ragiona convince il cross al centro subito 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 di testa incredibile cazzo devo mangiarsi questa cosa questo torneo come cazzo si chiama la cassetta 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 ma non gli sono andato addosso sono due erano treno cazzo guardalo con il fiero ma vaffanculo va ma cazzo hai visto io ho presa si è tipo dei due millimetri sopra guarda un altro culo 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 ma va 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 ma si sta mappiato il culo qua fuori gioco ahahah tipo si sta mappiato il culo si sta mappiato il culo se sei non fischiamata cioè cosa fai cosa cazzo fai ma ora sei stupido vabbè ma ora si sta mappiato il culo no no sai che coglione cioè ma che vuol dire si sta mappiato il culo dai su eh lo script vaffanculo va io pensavo che eri te carcola per cui lo stavo a premere stavo tranquillo dai eh ahahahahah non ci voglio crede non ci voglio crede non ci voglio crede camadora ma cazzo come fai ha fatto il male da solo ma vaffanculo pezzo di merda ahahah ahahah qua se mi vede lo psicologo mi chiude c'è dentro la cosa si vieni a fare youtube da noi abbiamo dei grandi televisori grandi studio non ci voglio dire cioè non era così per lui rigori infredizione ragazzetti 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 guarda quanto corre la cosa boom dai guarda come ha tirato questo paralo mio dio paramelo stronzo tuo eh seconda destra sinistra centrale non c'è mamma mia questo è scemo però eh ti va a prendere i golpi cazzo vinto ad esempio a destra adesso ooooh cazzo ooooh cazzo siii oddio mi sembra che non avevo una dirizzata geremì geremì è lui l'uomo che prenderà ma il cabaglie il cabaglie il cabaglie il cabaglie non morde porca ma la dosca infatti è aziata centrale abbiamo perso eh eh già eh già che palle ooo eh già va bene ragazzi la nostra avventura del torno francese è finita male molto molto male molto male abbiamo vinto neanche una partita cioè che cazzo c'è ci riproveremo magari ci riproveremo vediamo un attimo di sistemare la squadra perchè così non va così proprio non va non va no perchè la cazzetta non se fa la cazzetta non se fa un cazzo eeeh cioè cabaglie e cabaglie non vanno bene cioè capito capito cioè namo ciao 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 ciao